buonasera amici bentornati in questo nuovo video di sempre 96 io sono papi e le samuele che cosa giocheremo oggi a minecraft cosa faremo ne manca costruiremo una pizzeria di fnaf una pizzeria di fnaf uno caspita vai fnaf uno si prendiamo quindi come si dice in inglese ma one yes allora prendiamo gli almatronics che ci servono cosa questa cosa che brillava che ci muoveva così era con Dan Freddy guarda Dan Freddy questi ora non ci servono allora oggi faremo vedere come fare l'ufficio e corridoi se ce la facciamo cerchiamo di farcela se sbrigati c'è un quarto d'ora sì ah no stavo già scrivendo il bottone allora prendiamo un pulsante la porta di ferro video che già è ben in mente quello che vuoi fare perché già sta andando preciso con tutte le cose che ti servono e secondo te secondo te secondo me non sei simpatico quando dici secondo me e voglio dire secondo te e forse sì fammi vedere ma secondo me l'hai già capito cosa dobbiamo fare certo che ho capito però volevo vedere che facessi una sorpresa pure a chi sta prendendo il video no quindi non lo dire direttamente super elevato metti solo i blocchi facciamo più presto non devi scavare che ne pensi comunque allora vi spiego una cosa questa cosa ve la spiegherò anche in un video di domani allora no anzi è meglio che ve la spiego domani ve la spiegherò la sorpresa sì vi la spiego più meglio domani hai capito domani cosa devi dire sì sì hai capito domani lo faremo sì domani pomeriggio se non ce la fa in tempo a venire lo faccio da solo e te lo faccio vedere se invece fa in tempo lo facciamo insieme sul tablet e registriamo il tavolo vi faccio vedere praticamente tutte le sculture ti amatronix che abbiamo costruite vi abbiamo fatto vedere e ti amatronix che anche che abbiamo costruito il me li metto sul tavolo e ve li faccio vedere e vi spiegherò tante cose vi da un indizio solo è una cosa di roblox brutta 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 domani vedremo domani vedremo no io a roblox no meglio che lo dico con la parola perché io ve lo voglio spiegare meglio domani allora dobbiamo prendere questo che cos'è è la luce ecco il coso che tu metti la striscia a terra e si illumina sì ok ok ora ci fa le pareti si facciamo le pareti e lei da fuori però così si sta prendendo anche la sedia veramente dopo la sedia e ora inizia a prendere per te la sedia sta qui e la mettiamo qua e qua mettiamo anche il tavolo quindi di stà di stà di stà davol posso perdere 5 no aspetta eccolo qui qui ci si trova il tavolo che dobbiamo usare quindi perché è perché qui dobbiamo mettere la porta ma ti hai lasciato uno spazio diciamo allora per domani per il video che dovrò fare domani vi do solo un indizio è una cosa di roblox è una cosa molto brutta di roblox domani lo diciamo sì credo che avete già capito ma spero di no perché domani vi dovrò spiegare tutto il coso meglio ecco qui abbiamo finito c'è un lato che non si è arrivato fino a terra però buono fa niente ok ora mettiamo la sedia mettiamo questo di cosa di di bianco che non ci serve più per ora così così allora ora ci mettiamo il bottone con la porta qui ci mettiamo la porta e il bottone così guarda ora mettiamo la porta qui ci mettiamo questo qui potresti fare anche un condotto di fronte con la porta con un pulsante così si accende la luce si può vedere perché questo è l'aula di destra è piccato di passare alla finestra quindi si deve vedere mentre qui invece la luce a boning la mettiamo qui e fa luce direi che l'ufficio abbiamo quasi finito ora facciamo il soffitto no non lo dobbiamo fare di vetro scusa il gioco come si chiama? five night at fredd's e che c'entra quando è notte se è di vetro quando è sempre notte diventa no? no perché poi si vede tutto e poi quando stiamo facendo la cella di sun di moon avevi detto in FNAF si quando dobbiamo costire le pizzerie di FNAF si che facciamo tutto buio però non lo facciamo tutto buio gli mettiamo delle luci perché se no una persona non vede niente allora però al centro mettete sul centro del soffitto una luce eh questo volevo fare gli mettiamo e il sensore anzi no questo vi mettiamo la leva mettiamo la leva un togliamo il bottone che non ci sape più rimettere solo qui e se uno lo deve accendere devi uscire fuori no perché questo era l'altra l'altra è accesa per tutto il tempo non ti mette un'altra levante da dentro che si accende da dentro che da fuori ma ma che stai chiedendo per accendere questo lancione questa luce deve uscire a forza fuori no guarda il bottone no questa luce no questa luce non si non si deve mai spegnere eh ma se uno la vuole spegnere da dentro metti una leva anche dentro ok vedi se si accende e spegne anche da lì vedi in funzione dell'occhio c'è la messa sopra quindi devi togliere quella di sopra per mettere questa qui si oh mio dio mi ha fatto pensare una cosa ve la spiego domani vi dico soltanto se conoscete l'hacker pericoloso vedi vi dico come si chiama si chiama Gen lo conoscete? ma a chi stai domandando? sto domandando a loro allora se conoscono Gen Gen è un hacker pericoloso tiene fammi ricordare tiene i capelli con un sorriso e la bocca aperta che tiene anche la lingua mi pare e lei dovrebbe hackerare solo le donne e il problema è che io vi ricordate tengo la skin con il cappello rosso assomiglia un po' a un maschio a una femmina quindi non so se mi può hackerare però non fa niente tanto ma è Gen la conosciamo tutti credo blocchi bianchi non li metti? no ora tocca al blu in FNAF quando guardiamo la luce qui ci sta il blu solo in ufficio ci sta il bianco non ti ricordi quando in realtà mi pare che vi ricordate quella volta che avevo giocato a Roblox in FNAF multiplayer che ognuno diventava l'animatronics e scegliamo il nostro e vi ricordate? tu ti ricordi? si si è lì ma lì non mi ricordo bene ci ho giocato stamattina eh è una specie di balconcino non è un balcone dopo dobbiamo chiudere è un muro ma non era male così proprio il ciclo balconcino ma in FNAF ricordati che guarda ragazzi perdonatemi su quello che mi sono dimenticato cioè è di fare questo no la finestra di vetro no 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 questo è vetro normale quindi mettiamo questo nel posto di questo che non ci serve più siamo già a 10 minuti abbiamo solo 5 minuti ragazzi mettiamo solo qui e i bottoni mettono i bottoni metti dall'altro lato no lo mettiamo da qui di qua devi mettere qua sopra si? si ah ce la puoi mettere tu da l'ora finisce questo muretto mi sa che non ce la facciamo piano piano ce la facciamo non ti preoccupare in questo video volevo far vedere come costruire l'ufficio a due corridoi i dipinti 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 metti dopo finisci di costruire ok aspetta prende perché se no mi scordo dove stanno i dipinti eccoli qui mettiamo qui e li mettiamo al posto del bottone che non ci serve più ok ora andiamo a fargli il tetto 11 minuti non credo che ce la facciamo ce la facciamo giù devi chiudere qua aspetta mi ne mettiamo giusto tre ora ti spiego queste che sono guarda ora noi qui mettiamo le luci e li mettiamo questo coso sai che cos'è quando è giorno se li mettiamo questo coso qui sopra quando è giorno le luci ci accendono e quando è notte si spengono questo accade soltanto se se mettiamo sto coso che abbiamo messo via passiamo al prossimo questo lo facciamo solo i due perché non ce lo facciamo guardate quanto sono andato con ansia no stai calmo non ti fa bene l'ansia si io a me viene parecchie volte l'ansia no si invece 6 quindi 1 2 3 4 5 6 e mettiamo pure il coso abbiamo solo due minuti non fa niente non ti fa prendere dall'ansia mi sa che finisce male la stanza no no ma mi scordavo è la stanza quale stanza e qui c'è una stanza mi ricordo la facciamo presto presto piccolina era anche blu era anche nera e bianca voglio la facciamo così che si faccia più presto dai però sta stanza il scotto che l'ha messa a far me me la scordo sempre no questo mi mettiamo il coso si ora li dobbiamo fare questo coso qui il muro sarebbe poi dobbiamo staccare il coso e dobbiamo mettere e dobbiamo mettere i tre luci a proposito vi ricordate un gioco one of the slumpies se lo ricordate ve lo ricordate one of the slumpies se lo ricordi si si da praticamente un anno c'è ora è il primo marzo tra dieci giorni tra dieci giorni sarà un anno che non che non facciamo video su one of the slumpies li faremo presto però quanto sta 47 via l'abbiamo fatta ora nel frattempo che che teniamo più tempo facciamoci pure questo io lo facciamo presto presto ora ci mettiamo cinque dipinti nell'ufficio uno grande e quattro piccoli uno due tre un quattro e gli mettiamo solo l'ultimo qui cinque ok dico che abbiamo finito aspetta qui blocca la porta dire che abbiamo finito ok ragazzi quindi abbiamo in appena 15 minuti abbiamo costruito un ufficio meraviglioso si quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale aspetta dopo fare la copertina facciamola così la copertina si questa è la copertina vai tre dita oh ci ho tirato tutto il centro tre dita insieme e scivolare sopra non devi basta e tira ecco qua visto si se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale sempre ciao da babi e da e da samuele e da elmatronic ciao a tutti ciao alla prossima ciao ciao